hello guys benvenuti a questo nuovo video nuovo box di one piece come avevo accenato in quello scorso in cui abbiamo aperto il box di pillars of strength e niente terza espansione no quarta espansione giustamente quella di prima della terza che abbiamo qui ah vuoi aprire anche voi la e abbiamo anche questa bustina che io ripeto di base come dicevo nell'altro video non sono giocatore al momento di one piece il nostro amico qui è l'edewildo umerk che ci fa a compagnia anche in questo video si sta approcciando al gioco e ne abbiamo approfittato ho trovato un rufi bello molto carino e sta approcciando al gioco quindi ha comprato qualche box abbiamo detto perché non caricarli sul sul canale quindi dubbi molto basici mi verrebbe da dire perché ripeto io non conosco il gioco quindi le domande se volete farle qui sotto nei commenti fatele diciamo sì che vi rispondo io o magari lui direttamente su youtube vedrà però di base non so rispondervi al momento distruirò affinché tu possa però sicuramente c'è una base più solita della della vediamo se imparato no questo io non imparerò mai devi strappare dove ci sono io qua ho paura è fatto per essere strappato ah infatti no ah perché quelli di yuki non so così ecco vabbè io come sono quelli di yuki? ma di yuki si so già lo tiri e fai adesso dobbiamo scegliere destra e sinistra non so come si sceglie con il dato pari o dispari? dispari sempre ovviamente il dato del team 3 e quindi che era questo sinistra tu hai scelto dispari e scegli sinistra sinistra è questo era sotto però non c'è chi lo ha preso aspetta vai la tecnica da selvaggio prima va no hai mischiato tutto vabbè hai mischiato tutto va bene è finita così è finita va finita così come al solito non va mai nulla bene nei miei viti ahahahah è finita da bene quindi poi inizierai tu stavolta dai questo giro lo faccio io aspetta che l'hai conto così è il contrario assenti ho detto quello a sinistra quindi questo allora quindi per box ripetendo solo le stesse cose di prima sono 24 bustine per box e 12 per ogni bustina di cui 2 rare o superiore 2 rare o superiore quindi iniziamo subito la saga contenuta abbiamo detto quella di crocodile quindi alla basta e l'altra dress e un'altra che non ci veniva in mente prima quindi vabbè vado abbastanza spedito anche se ripeto non conosco le carte chiuso chiuso ah il diamante vedevo la carta metà e sembrava scisa e frank diciamo inizia da rispetto a prima almeno per la mia prima bustina la sei stata esagerata almeno un po' di riscaldamento riscaldamento mettiamo qua le normali ah è vero almeno che faccio prima io quindi nascosteremo queste da mezzo ho la gola diciamo molto secca perché ho parlato tanto nel video scorso però in base urlo questo common datemi miocca anche se non esiste leader ma tu io boh vabbè perché è un'altra carta costosa e ne va altro leader alternativo ma ma incredibile ma è sempre la seconda è sempre la seconda bustina a prescindere da dove la prendi dove la prendi e la seconda e poi io non dico nulla perché non ci capisco quasi un cazzo adesso già l'abbiamo chiusa che non stanno la carta impostata vabbè però niente che poi non sono obbligatori cioè non si trovano per certo leader alternativi io credo che ci siano che prendetele con le pinze queste cose dovrebbero esserci un tot di alternative però possono essere sia super rare che rare che leader che secret quindi trovare il leader alternativo non è garantito ok quindi non è assolutamente garantito berlino super rara questa ok mettiamo qua con questo super rara qua super rara ok nel box di prima abbiamo trovato un'altra alternativa che se non avete visto andatevi a recuperare il video del box precedente come vi ho mostrato prima sempre a seconda bustina quindi manco per di ah voglio vedere il video fino alla fine se siete curiosi vedetevi subito la seconda bustina ma ti vedrei anche la segretta alternativa la segretta alternativa ma magari ma meglio il fatto che dato che non le conosco non ci spero di conseguenza accade capito perché più ci speri più ci speri ma che figo ma poi è fichissimo sto artwork il signor Winsbox tu portano i box io li apri io non ci capisco un cacchio io mi diverto tantissimo vedrete che non devo nemmeno fare la fatica di aprire se tu mi fai tutti io guardo semplicemente uscire le cose senza che ci capite se sei fortunato che nessuno di questi box ci sia mioc perché io poi l'avrei desiderato non l'avresti trovato no 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 manco per darmi perché siccome mi mettevo in testa devo trovare miocco non lo sapevi forse c'è il miocco veloce dobbiamo trovare miocco malevate senior pink cosa c'era? uno azzoro ma è bellissimo ma signor pink questo può essere superiore a tutti questo è super oh scusa ok buttiamo via tutto noi domandi a quello da commettere il video guardate che ho trovato beh farlo è meglio di spammare un po' anche il canale anzi se volete farlo anche voi ragazzoni a me non fate male anzi lo sapete che sto cercando di investire un bel po' su youtube nico rob no orsani ah bello si è vero il nome di quando aveva stava in cropped effettivamente ma super questo non so se si è giocato a me magari in futuro ma poi parlo sempre da eretico e ignorante ma tipo carte che magari le vedi non utilizzate mo' ma potrebbe averne cioè come yuki a fine come ogni gioco di carte guarda che hai visto tante c'erano tante carte che sono passate da pochi centesimi a 10 euro 20 euro ok niente di questa mi serve ok quindi di base sono le gialle da quel che ho capito si sto cercando di fare giallo e prima mi sa non l'abbiamo detto per quanto riguarda i colori diciamo un po' come magic del tipo rosso giallo blu verde ci sono sei colori ognuno con hai un limite massimo di colori il colore dipende dal leader ad esempio questo è giallo questo è nero blu significa che puoi avere carte nere e blu nel marco ah ok quindi è il leader che dice il leader del colore c'è un leader che ha tutti i colori ah questa è l'alternativa questo non è un character non è un leader è l'alternativa segreta è l'alternativa di questa se non erro ma è bellissima è bellissima perché ho comprato i box va bene mi comprivo un'altra adesso te lo dico se tu vuoi domani lo andiamo a comprare adesso ma se vuoi la fumetta lì la sopra è aperta eh se vuoi io non sto scherzando prendo le scarpe andiamo eh io sono serio su stai pazzi uuuu questo buono cioè io dico u per il personaggio non per la verità perché non ci capisco un cacchio ahahah ci tengo a sottolinearlo poi magari ci capirò qualcosa in pubblico non è giocatissima ma mi piace il mazzo con lui ma ma tipo che uscirà l'ier5 e tcg sarà un po' mono meta o no? cioè com'è il meta in Giappone? attualmente non lo so attualmente come in Giappone però adesso domina il rosso qui con barba bianca azzurro tutte le versioni di rosso sono le più forti no niente speriamo che cambia eh barba bianca non so se dovessi giocare non mi dispiacerebbe la gioca come mazzo ok vabbè la non si vede non me la posso inquadrà però c'è un action figure che sarà 80 cm lo scatolo a me fa paura di barba bianca per dirvi quanto mi piace ma ovviamente non è il mio personaggio cioè ovviamente non è il mio personaggio preferito no ovviamente un po' meno però il mio personaggio preferito è mihook in tutto one piece mihook poi c'è barba bianca, azzurro Igaram no? Igaram, Kinemon c'è anche un Kinemon un po' no no mihook si comunque hai trovato tutto tu non so io cosa dovrò fare con la mia metà però vabbè chi ho trovato qui? hai trovato tutto se vuoi continuo la secret se trovi la secret con l'ultima me ne vado guardate eh io vado eh no non credo di trovartela ok no ah Cuscus Cuscus che poi questo effettivamente a livello diciamo il personaggio in sé non fa un cazzo però da una rivelazione molto pesante all'interno del manga molto pesante poi io faccio sbustare lui ora manca praticamente la secret che potrebbe essere alternativa ancora giusto? non so se davvero si può tenere tanto vabbè però intanto ho trovato probabilmente si le tirature io penso che sia in una linea guida ti può andare tanto bene non ti può andare troppo male ma nemmeno troppo bene però i box di base c'è un sacco di foglie vabbè anche i yuki però ok non capiscono due rare abbastanza utili sono sempre leader giusto dov'è il colore scusa? allora vedi sia la parte in basso che questo è nero comunque ah vedi la parte in basso? ok vedi la salgono in fondo a sinistra ah quindi c'è anche il nero si ma i colori poi scandiscono anche un po' il gameplay del tipo il classico blu contro il rosso diciamo che ogni colore esatto ogni colore ha una caratteristica quello che fa? giallo si basa molto no si basa sulle vite cioè devi capire queste sono le vite prima nel gioco ah il bianco c'è? bianco no quindi sarebbe il bianco di base diciamo? si può essere considerato così oddio la vedo una una super norma beee ho il 4 per di questo va benissimo serviva così non siamo costretti a giocare la varia perché altri due di questi normali questa la tiriamo ma il limite è 4 per si guarda mi piace molto la probabilità perché 4 per sul mazzo di 50 carte però ah 50 o 60 è molto meglio sia del 3 per su 40 che del 4 per su 60 ah statistica io non ci capisco eh ma guarda se al volo al volo e poi giocando ci tenerebbe di conto io sono solo l'uomo che preferisce giocare a 41 carte di solido nei mazzi solo per il post side ok due rane kiros mi trovo meglio assidare con 41 carte ok si è indeciso su cosa togliere quindi c'è gioco da 41 e mi aiuto un sacco e non rompe troppo l'equilibrio del mazzo dipende sempre dal mazzo eh però 41 io mi trovo abbastanza al de certo 40 è un po' meglio ma in questione anche dei gusti personali ti ricordo che Billy Brake vinse questa è utile te la ricordi questa scena ma se c'è qualche fan di One Piece saprà di cosa parli ma era proprio prima avevo proprio letto il nome della carta perciò non ne ho capito nulla qua c'è l'ombra comunque non sono molto ok e Bartolomeo ci piace beh Bartolomeo best character di One Piece dopo Mr. Pink dopo Mr. Pink eh Mr. Pink uomo di stile ah già ma voglio mandare dritti al sodo vai vai fallo sto giro è un'alternativa si è l'alternativa di questa se non sbaglio e hai trovato tre alternative tre alternative ragazzi eh uno due non so se questa sia sostituta della secret a sto punto però no perchè prima c'erano entrambe ehm e ti tricchi al sodo vedi l'altra ma la secret che è un altro capone a gang beige guardate che ha ma che belle poi le alternative a toccarle c'è una tex che è fantastica c'è una tex che è fantastica si si sono delle ultimate praticamente eh quasi si quindi la mettiamo qui che qui è ma io toccassi le altre cose come che tocco le carte oh che bella Yamato una super Yamato è bellissimo ma io qua sto contando sto contando qui su perchè nello scorso box non so se ne sono a occhio è una delle mie crash davvero si mi piace un sacco allora se devi fare due domande bevo no scorro anche le comuni perchè mi piace tanto il disegno di questo non ti piace è troppo manga dovevi trovare l'alternative hai sbagliato io questa la vedo troppo vedi troppo non lo so rispetto al concept originale guarda quanto è più allora la chicca è che qui c'è una scritta piccolissima una che non si metterà mai a fuoco comunque c'è l'artista se vedi questa scritta è cosa che Konami secondo me dovrebbe un po' perchè alcune sono come avete visto alcune sono proprio prese dal manga quindi sono illustrazioni artigiane che sono messo più fighe alcune sono dell'anime altre vedi la maggior parte sono illustrazioni artigiane forse questa questa è pazzesca e c'è l'artista questa è pazzesca fantastico chi era? rara rara ah scusa Mr.Five ah Mr.Five è un leader ah i leader sono rossi si perchè ne deve avere uno sta fuori dal mazzo quindi ma c'è un altro leader perchè lui non è rosso? non è leader questo è leader ah ok ah perchè è character lui esatto character, leader character sui mostri si e poi tipo tutti stanno giocati tipo ah questo ok è il donna alternativo prima non so se hai visto che c'erano le cartellone si no quello l'avevo visto nel video come si chiama guida di one piece che non ricordo nulla c'è il mazzo di cartedon che sarebbe fanno da mana più altri effetti che indaghiamo con cam heavenly fire un altro cusuf e un leader beh comunque questi dovrebbero essercene due per box no però prima l'abbiamo trovato forse non è nemmeno assicurato a sto punto oh non lo so in ogni espansione comunque ce n'è una con l'altra forse l'avremmo trovato ma l'avevo scartato perchè eravamo presi magari dal leader alternativo qua so sai come vedete la carta più cicciosa lo scopriremo dopo barro club barro club ti apro quante ne mancano lì questa è la rebecca normale vedi ah eccola ok ti apro questa tu la vuoi aprire la prendiamo questa qui qui sono io però a farli ma però non trovo nulla cioè prima lì quando ti senti proprio il potere scorrere sulle punte adesso scopriamo perchè se non c'è la secret vuol dire che ma sarà da qualche parte magari è alternativa al leader capito all in bello questo kaido su ma che figo eh però è figo l'artwork questo qua è figo proprio devi vedere l'alternative di quest pazzesco io voglio l'alternative di mio praticamente è kaido che vuoi l'alternative di mio c'è tipo una carta di barba bianca che c'è tipo tutta la sua faccia versione manga l'alternative immagino costerà di miliardi miliardi ah ah ok 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 miss valentine e qui abbiamo abbiamo anche qui qui ne chiede quello che ti serviva no e lui il doppio colore si vuol dire che quindi puoi mettere sia carte blu che e tipo se io posso giocare se per esempio io ho un mazzo nero blu posso giocare lui? no ma il leader ne è solo uno certo è il leader il nero e il blu ma se è il leader il nero e il blu posso giocare lui? ma se è il leader il nero e il blu questo è un leader ah è un leader? no ma solo i leader hanno il doppio colore ah ok le carte sono tutte no no le carte sono monocolore niente secret niente secret niente secret ragazzi quindi non è assicurata vabbè ti ho detto non è assicurata ma vabbè hai trovato porca troia tre meno che non sia due tre variant ecco sono tre alternative invece della secret riferisci la secret o la secret? forse allora si la tiratura è quella a tre tra alternative e secret qualcosa del genere non ne sono sicuro va bene allora ragazzi io a questo punto questo vabbè ho reso conto delle carte che abbiamo trovato vi ringrazio ovviamente per aver guardato il video fino a questo punto e sostenere diciamo questo piccolo off topic del canale con One Piece non so se ci saranno altri video magari si probabilmente se compro altri box se vuole che li avrò io avremo quelli e niente ovviamente ce n'è un altro però giustamente se lo tiene Sealed se vi piacciono i bei contorni di Yugi mi ricordo sempre di lasciare un piaccio al commento e ci vediamo al prossimo video see you next time WUYOU